Monti, questo è per te! Monti, questo è il tuo GMO? Vieni, facciamo un mano! Grazie a tutti bisogna disegnare dai devi fare il lumino però ho già visto che ha sbagliato due domini nelle donne non lo so non ci sta a mettere le mani e le vuole fare alzate